Un segno di speranza per il mondo. Francesco continua a riporre una fiducia sconfinata nella Madre di Dio a cui negli ultimi mesi ha più volte consegnato il destino dell'umanità, inquieta per il nuovo scenario di guerra e ferita dai tanti conflitti che infiammano il pianeta. Così martedì 31 maggio sarà a Santa Maria Maggiore per recitare il rosario davanti la statua amatissima di Maria Regina Pacis. Il pontefice vuole chiudere il mese mariano davanti la raffigurazione della Vergine voluta da Benedetto XV nel 1918 per chiedere la fine dell'inutile strage, la prima guerra mondiale. La Madonna ha il braccio sinistro alzato quasi a fermare la guerra mentre con il destro tiene stretto al seno Gesù Bambino pronto a far cadere il ramoscello di olivo segno di pace. I fiori scolpiti sul basamento simboleggiano il rifiorire della vita dopo l'oscurità della morte. Da oltre un secolo i fedeli depongono biglietti e fiori ai piedi della Vergine con intenzioni di preghiera e così farà anche Francesco che porterà alla Madonna una corona di fiori e la sua personale invocazione. Con lui ci saranno bambini e ragazzi che hanno ricevuto la prima comunione e la cresima nelle scorse settimane, scout rappresentanti della gioventù ardente mariana, le parrocchie romane che condividono il titolo di Maria Regina della Pace oltre ai cappellani militari. Ma soprattutto ci sarà una famiglia ucraina e persone che hanno perso i loro cari in guerra. Collegati via streaming reciteranno la preghiera alla Madonna anche santuari in luoghi di conflitto dall'Ucraina all'Iraq alla Siria e molte altre basiliche mariane del mondo, dalla Santa Casa di Loreto all'Urd. Tutti a sgranare il rosario perché nulla è impossibile a Dio, neanche fermare una guerra folle.